Allora, un ospite illustre a vedere Ligor Nabra, Nino Becoraro, ministro del Via dell'Acciaio. Il campionato del Ligor inizia con una vittoria, domenica rincomincia il campionato del tuo Via dell'Acciaio contro lo Scerborasca. Che campionato sarà e che partita sarà domenica? Tanto la prima, dopo la sosta, è sempre un po' un'incognita, perché comunque dopo la preparazione, le squadre, chi ha caricato di più, chi ha caricato di meno, non si sa mai quello che potrà essere. Però noi ce le stiamo giocando tutte per vincere, per far bene, andremo a incontrare una squadra molto forte come lo Scerborasca, dove penso che abbia fatto solo una sconfitta, ma è una squadra veramente messa bene, con dei valori. Non lo so, noi proveremo a giocarcela per fare i tre punti, perché è quello che dobbiamo fare. È un campionato bello, dove ci sono tante squadre forti e niente, sono contento della mia squadra, dei miei ragazzi e sono contento per il Ligorna che abbia vinto, perché io abito qua, quindi in bocca al lupo a Ligorna.